l'Uiba Express viaggia velocissimo e non fa fermate nemmeno sul campo di Novara nell'ultimo turno della regular season finisce 1 a 3 per la squadra di Marco Musso con i parziali di 23 25 22 25 25 19 e 17 25 in questo magico 2021 delle farfalle che oggi hanno cercato la quindicesima vittoria nelle 16 gare disputate in questo nuovo anno cade anche il Tabu Pala Igor l'ultimo successo bianco rosso infatti oltre la sponda del Ticino risaliva al gennaio del 2015 e a conferma insomma di quest'anno veramente magico ecco che è arrivata questa vittoria che cancella le tantissime sconfitte incassate su questo campo ultimamente poco fortunato per per Busto Arsizio una prestazione ancora una volta solida con un solo passaggio a vuoto nel secondo set ma Busto Arsizio ha dimostrato ancora una volta di avere una grandissima fiducia di viaggiare ormai sulle ali dell'entusiasmo trascinata ancora una volta da Gray e da Mingardi e da un'ottima a Gennari che si è giudicata il titolo di MVP della della gara dopo questa partita rimane ancora perfettamente in corsa la squadra di Marco Musso per il quinto posto occupato da Chieri che ha terminato appunto la regular season sono due i punti di distanza dalle piemontesi ma ricordiamo che Busto Arsizio sabato prossimo dovrà recuperare la partita contro Casal Maggiore e con il serbatoio della benzina sempre più pieno non c'è miglior auspicio in vista però della importantissima gara di giovedì che Busto dovrà affrontare in trasferta a Istanbul contro le Xacibasi la partenza è il 3 a 1 guadagnato la settimana scorsa la E-Work Arena e a questo punto l'impresa in terra turca è veramente alla portata di Gennari e compagni